Ciao ragazzi, ciao ragazze! Molto brevemente, è primavera, abbiamo bisogno di uno slancio in più perché già ci sentiamo stanchini, vi ricordo l'Ergoton. L'Ergoton è un prodotto che ho fatto per me quando dovevo lavorare tutto il giorno in piedi in negozio, dare attenzione alle persone e cercare di prepararmi a degli esami all'università, per cui ho messo dentro un po' di cose molto utili, c'è tutto l'elenco e sull'etichetta e naturalmente sul foglietto. Nel miele, che serve solamente per tenere assieme le cose ma dà anche energia, abbiamo lecitina di soia ad alto percentuale di fosfolipidi per le nostre materie cerebrali, cellule cerebrali, estratto di ginseng, polline dei fiori, guaranà, guaranà lo sapete, è molto ricco di caffeina ma viene usata nella digestione, non viene usata immediatamente nel nostro organismo. Il guaranà lo usavano, questo è un esempio di guaranà degli indios Mawes che lo pestavano e lo mangiavano durante la caccia nella foresta perché dà energia ma calma anche la fame. Il lergoton è un ottimo aiuto per chi studia, per chi lavora, si presenta sotto forma di cremina, se vogliamo, si può prendere, vedete come è fluido, si può prendere da solo, come faccio io adesso, oppure sciolto in poca acqua. Naturalmente gli energetici vanno presi la mattina e tutto più a mezzogiorno e poi ormai sono talmente tanti anni che lo vendiamo, sarà più di 30 anni. E poi c'è il proverbietto, per un giorno da leone prendi ergoton a colazione, al mattino a mezzodì il più felice sarai così. Ciao, alla prossima, è un ottimo energetico. Bye bye! Ciao, ciao! Ciao!